Pierino a scuola e io racconto il suo compagno, Pierino è sempre a scuola, racconto il suo vicino di banco, no, il suo vicino di banco, no, il vicino di banco, il Pierino, c'è uno inglese, uno italiano, francese, il Pierino, no, no, Pierino le pare, è un trans, a Torino si sa, lo sa, lo sa, Pierino, vedi, mi sai lì? Mauri, ma tu? Ma chi c'è? È who to the strip ngon Abba Kom Sto Sei fantastico, Mauri Soumeri лет sconf Senta Hai muto le peggie Vabbè Mauri, chi vede sto video su internet P duty C'è che ti hai fatto sei video Vi judicial Ho fatto la pera Le confessioni di More. Non so più se è Pierino o se è compagno di barco che gli dice, deve essere Pierino e fa il suo compagno di barco, sai che mia sorella fa la sostituta? Ah le pare, Pierino, sai che mia sorella fa la sostituta e il compagno di barco gli dice Pierino no, sarà la prostituta, no la sostituta, ma cos'è? Alla sera si mangia le uova, ma non viene più bene, si mangia cena in famiglia e poi lei scende sotto casa dove c'è il lampione, arriva la macchina, la carica, poi la riporta, poi arriva un'altra macchina, il compagno di barco gli dice, vedi Pierino che quella è la prostituta, ma non mi viene bene, non è giusto, perché deve venire che dice, no è quella mia mamma solo che ha letto un'altra ma non mi viene sapendo, ma che è la vera questa? No, ma non è mica registrato, non è bene